Il Lecce è sicuramente la rivelazione di questo inizio di campionato 2023-2024. Nonostante la perdita di Lorenzo Colombo, i salentini non si sono persi d'animo e negli ultimi giorni di mercato hanno pescato dal campionato slovacco e precisamente dal Dunaiska-Streda la loro nuova punta. Si tratta del montenegrino Nicola Christovic. Christovic ha già segnato due gol nelle sue prime due presenze in Puglia contro Fiolentina e Salernitana. Quanto a Leo Corvino non è nuova fare questo genere di acquisti. Chissà che il classe 2001 non possa fare tornare i giallorossi e sperare come fece ogni addietro un certo Mirko Vucic.